Preparato le divise per domani, per la gara di domani, per il big match contro il 1920 Lanciano Calcio, domani abbiamo le divise classiche, la prima divisa giallorossa, ma abbiamo anche in riserva la seconda divisa bianca con il profilo giallorosso, se casomai si riconquore, ecco, preparato lo sfogliatoio per i ragazzi domani, preparato tutto, borsa medicinali, dove c'è tutto, olio di camfora, domani mattina il scaldamento che fa il freschetto, è prevista anche la pioggia, preparato le divise per i ragazzi, anche per i portieri color orange, orange e nero, le casacche per i ragazzi che partiranno dalla panchina, i calzettoni, i pantaloncini, tutti con il numero, è domani il big match, l'ultima gara di questo 2017, a domani.